Ho scavato e ho cercato mio figlio. Gli ho aperto la bocca e ho cominciato a buttargli il mio respiro nel suo corpo. L'ho preso dalla testa e poi mentre cercavo ancora di liberarlo perché era tutto incastrato e via dicendo la sua testa è inclinata così. E sono rimasto abbracciato a mio figlio fin tanto che non sono arrivati i Vigili del Fuoco. Questo è quello che hanno combinato. Grazie. Grazie. Grazie.